ELEZIONI ANCHE NELLE MARCHE SCADE IL TEMPO DELLE CANDIDATURE CAMPAGNE ELETTORALI DOMANI SALVINIA PESERO E GORGIA MELONI ANCONA TURISMO POLLICE IN SU A UN'ESTATE DI CONFORTANTE RIPARTENZA IL ROV SI CHIUDE COGLI APLAGI A I QUARANT'ANNI DI PIZZI AL FESTI ITAL SERVICE I CAMPIONI TORNano in campo PER PREPARARE LA NUOVA STAGIONE Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV parte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di Rossini News questo è il telegiornale di lunedì 22 agosto che apriamo con la politica perché alle 20 ovvero davvero tra pochissimi minuti scadono i termini ultimi per la presentazione delle liste elettorali verso la chiamata alle urne delle 25 settembre con le elezioni politiche delle marche giochi praticamente fatti per i candidati al Parlamento che andiamo a conoscere alle 20 del 22 agosto scade il termine per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni politiche del 25 settembre giochi apparecchiati per la partita elettorale con Fratelli d'Italia ultimo partito a sciogliere gli ultimi dubbi decidendo di piazzare Lucia Albano e Antonio Baldelli ovvero il fratello dell'assessore regionale Francesco nelle posizioni elegibili al proporzionale alla Camera così come l'assessore Guido Castelli schierato come capolista al proporzionale per il Senato un senato proporzionale in cui competitor capilista saranno Alberto Lossacco del Partito Democratico e Mauro Lucentini della Lega il partito di Salvini schiererà invece Riccardo Marchetti al proporzionale della Camera un listino in cui ci saranno Irene Manzi e Augusto Curti per il PD Valentina Vezzali per Forza Italia e Giorgio Fede per il Movimento 5 Stelle quest'ultimo sarà candidato anche nel collegio uninominale di Fermo Ascoli nel collegio uninominale di Macerata spicca invece la presenza di Giorgia Latini seconda dei tre assessori regionali della Giunta Acquaroli candidati al Parlamento il terzo assessore candidato è il vicepresidente della Regione Mirko Carloni a rappresentare il centrodestra nel collegio uninominale di Pesaro Urbino provincia in cui all'uninominale vedrà la sfida con Giordano Masini di Più Europa schierato per il centrosinistra con la fanese Rossella Cotto per il Movimento 5 Stelle e con Federico Talè in rappresentanza del terzo polo composto da Azione e Italia Viva per il collegio uninominale Marche Nord del Senato partita aperta fra Antonio De Poli dell'Udc che rappresenterà il centrodestra Marco Bentivogli per il centrosinistra Samuela Melini per il Movimento 5 Stelle e l'avvocato pesarese Elena Fabri di Azione in rappresentanza del terzo polo e nel servizio che vi abbiamo appena mostrato vi precisiamo che ci siamo concentrati sui candidati al Parlamento per quello che riguarda le Marche nei quattro poli partitici principali ovvero centrosinistra, centrodestra, terzo polo e Movimento 5 Stelle vi rinnoviamo l'appuntamento per domani per conoscere anche gli altri candidati per quello che riguarda gli altri partiti nella Regione Marche e invece per quello che riguarda i candidati marchigiani alla Lega di Camera e Senato questi verranno presentati proprio domani alle 16 all'hotel Excelsior di Pesaro alla presenza del segretario federale della Lega Matteo Salvini due ore più tardi ad Ancona sarà Giorgia Meloni a dare il via da Piazza Roma alla prima tappa del tour di campagna elettorale di Fratelli d'Italia una campagna che dunque per i due pesi massimi del centrodestra nazionale parte proprio domani e dalla nostra Regione e parliamo di cronaca e in particolare di spaccio di eroina un'accusa con la quale è stato arrestato a Cagli un 48enne dai carabinieri della locale stazione l'uomo già noto alle forze dell'ordine è stato notato in compagnia di una donna nei pressi di un bar del centro storico dove è stato sottoposto a perquisizione personale e addosso gli è stata trovata una dose di eroina di circa un grammo la successiva perquisizione a casa ha permesso ai militari di ritrovare altri 7 grammi della stessa eroina un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della droga e dunque sono scattate le manette e siamo entrati nell'ultima decade delle mese di agosto un mese clou di un'estate di importante ripartenza dopo il biennio di covid con un importante afflusso di turisti nel nostro territorio come ci spiega anche il presidente degli albergatori pesaresi Paolo Costantini è sicuramente un'estate positiva questa di ripartenza le persone sono finalmente tornate in vacanza abbiamo avuto degli ottimi riscontri e sicuramente c'è un animo molto più leggero rispetto all'anno scorso e all'anno prima le presenze ci sono prevalentemente italiani ovviamente o stranieri dei paesi vicini però tutto sommato siamo soddisfatti Turismo anche molto giovane per le strade di Pesaro soprattutto del centro della città sono visti molti giovani con le valigie in mano che arrivavano in città per godersi l'estate pesarese è una soddisfazione ulteriore questa per gli albergatori? Sì è un turismo anche nuovo quest'anno Pesaro è anche città dei giovani 2022 poi è passato un po' in sordina questa grande iniziativa è stata anche al centro di un convegno che è stato fatto nelle settimane passate quindi i giovani tornano a visitare Pesaro e siamo molto contenti di questo Il turismo invece per i prossimi mesi quindi da settembre verso poi l'autunno e l'inverno come è proiettata la vostra idea di turismo? Sarà un settembre che ovviamente fino alla fiera di San Nicola quindi attorno al 10-11 di settembre rimarrà costante, un po' in diminuzione ma prevalentemente costante poi inizieranno una serie di iniziative che manterranno piano piano il turista qui a Pesaro ma scemando verso l'autunno ovviamente Il grosso interrogativo per il prossimo autunno inverno sarà per noi le bollette quindi l'aumento dei costi e su questo dovremo anche riflettere alcune strutture stanno riflettendo come gestire l'inverno perché non sarà facile con tutto quello che sta succedendo attorno a noi non sarà facile poter mantenere le strutture aperte e gestirle nel migliore dei modi però siamo ottimisti speriamo che ci sia anche un Natale quindi un dicembre è un Natale di ripresa e incrociamo le dita E poi soprattutto c'è il fattore casco gigante di Valentino Rossi che può regalare ancora più gente ancora più turisti qui a Pesaro Sì, abbiamo visto che per il momento sta funzionando le persone lo hanno apprezzato lo vengono a visitare vengono a farsi una foto, un selfie dalla mattina presto fino alla sera tardi quindi è sicuramente qualcosa che attrae e porta almeno per ora di passaggio alla gente a Pesaro poi vedremo se questo oltre a portarli di passaggio sia anche un elemento per portarli qualche giorno in più a Pesaro E dal bilancio sul turismo passiamo al bilancio del 43esimo Rossini Opera Festival che di fatto del turismo pesarese è una componente non indifferente Rov che si è concluso proprio ieri con gli applausi ai 40 anni di Pierluigi Pizzi al festival E' calato l'ultimo sipario sul 43esimo Rossini Opera Festival ed è calato con chi del festival è stato protagonista per 40 anni il regista e scenografo Pierluigi Pizzi che è stato omaggiato domenica sera fra gli applausi del galà celebrativo tra rondò e tourne d'os nel giorno in cui Pizzi ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria di Pesaro E' come ho avuto modo di dire allo stesso Pizzi e poi ieri durante un momento di festa che ci siamo regalati tutti assieme pensavamo di fare noi un omaggio al maestro Pizzi invece come spesso accade è finito per farlo lui a noi perché ha confezionato uno spettacolo straordinario molto emozionante che ha veramente conquistato il pubblico del festival che ha avuto modo di fare nel breve tempo di un paio d'ore poco più veramente un viaggio nella memoria del festival di questi 40 anni che hanno avuto un grandissimo protagonista nel maestro Pizzi che ieri ci ha restituito tutta la magia di questa sua avventura artistica al festival e si è anche potuto leggere il suo percorso anche diciamo creativo come è evoluto il suo pensiero questa rivendicata riduzione e pulizia che ricerca le sue produzioni ed è stata veramente una serata fantastica Pizzi conclusione di un festival capace di coniugare tradizione e rinnovamento con la nuova direzione artistica di Juan Diego Flores assemblata a quella di Della Chiara e del soprintendente Ernesto Palacio tra le grandi opere delle Comtory La Gazzetta Otello oltre al consueto Viaggio a Reims e una nutrita agenda concertistica è stato un festival che ci ha lasciato ci sta lasciando veramente molto soddisfatti siamo in una situazione che non possiamo considerare fuori dalle emergenze né dall'emergenza sanitaria né dalle altre ahimè molto attuali la crisi economica la crisi geopolitica eppure è un festival che è in grande salute e che si sta piano piano riportando sui livelli precedenti questa crisi abbiamo avuto 13 mila presenti da 35 paesi diversi del mondo una grande attenzione della stampa siamo oltre il 55% di stranieri quindi diciamo è un festival che è in grande salute e che non si accontenta diciamo di quello che di questi gloriosi 43 anni di storia ma che cerca di guardare al futuro stimolando e cercando anche nuove idee fra queste una apparentemente piccola ma ritengo molto significativa novità di quest'anno i concerti di Salon Rossini che hanno portato il festival nel territorio con tre appuntamenti in tre borghi della provincia come San Lorenzo in campo gradare San Costanto testimoniano una volontà di rinnovarci sperimentare nuove strade del tutto in linea tra l'altro con le idee alla base della candidatura e della vittoria di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 cui il festival si presta a essere un elemento fondamentale diciamo che ci piace pensare che con ieri si è chiusa la 43. edizione ma in realtà si è aperto un biegno importante che ci porterà a questo straordinario traguardo del 2024 e il festival è attrezzato per sfruttare al meglio questa opportunità ve lo abbiamo anticipato nelle scorse settimane mercoledì 24 agosto la città di Pesaro con una sua delegazione sarà protagonista della posa nella Walk of Fame di Hollywood della stella in onore di Luciano Pavarotti la cerimonia sarà trasmessa anche in Piazzale della Libertà dalle 20 e 30 location in cui a seguire dalle 21 e 30 sullo stesso palco della Palla di Pomodoro si esibirà per la prima volta in città l'artista pesarese 22enne Raffi che è salita al ribalta nazionale per aver aperto con successo i concerti di Vasco Rossi nel tour 2022 del Blasco e invece dal 24 al 26 agosto ci spostiamo a Fano dove torna la fiera di San Bartolomeo con più di 200 ambulanti pronti a caratterizzare l'evento che si terrà fra Lungomare Sassonia Viale Adriatico e via Dante Alighieri per l'occasione torna anche la fiera franca dei bambini e dei ragazzi allestita nello spazio della tensostruttura della Sassonia e invece domani martedì 23 agosto alle 21 e 15 ultimo appuntamento di Durante Festival manifestazione culturale estiva organizzata da Comune di Urbagna e Ente Concerti di Pesaro protagonista del concerto conclusivo nel cortile d'onore del Palazzo Ducale di Urbagna sarà la Rossini Sellos Orchestra originale formazione di archi diretta dal maestro Claudio Casadei un festival che si chiude e un altro che invece si apre con una sua prima edizione domani 23 agosto si alzerà infatti il sipario per la prima edizione del festival nazionale il bel canto ritrovato dedicato ai compositori dimenticati della prima metà dell'ottocento in programma per le 20 e 30 al teatro Rossini la farsa cecchina suonatrice di Ghironda per una prima esecuzione in epoca moderna a cura di Marco Beghelli e diretta dal maestro d'orchestra sinfonica Rossini Daniele Agiman il prossimo appuntamento mercoledì 24 agosto al teatro della fortuna di Fano con il concerto il bel canto marchigiano prima del ritorno a Pesaro il 25 agosto con la musica dei grandi teatri serata conclusiva del festival sarà il 10 settembre al teatro Alfieri a Monte Marciano sta per concludersi un'estate davvero torrida di altissime temperature e si sa come l'AFA rende terribilmente complicato anche il sonno notturno c'è però un'azienda pesarese che ha puntato sull'innovazione tecnologica per dare un riposo sempre più rinfrescante ai suoi clienti vediamo in un'estate che ha registrato temperature da record il riposo notturno è stato sistematicamente poco confortevole o ha dovuto convivere con i condizionatori costantemente accesi nell'estate dei super rincari di bollette eppure esiste una terza via dal soffrire il caldo sul giaciglio o dal digerire bollette salate si può infatti dormire su letti corredati di filati con materiali tecnici e all'avanguardia che disperdono il calore producendo effetti rinfrescanti materiali fabbricati e commercializzati dall'arte del riposo fra la produzione d'azienda montelavate e l'esposizione nello showroom pesarese in zona torraccia noi dell'arte del riposo ci siamo attrezzati a produrre dei tessuti tecnici diversi tipi di tessuti tecnici tra i quali abbiamo prodotto un tessuto nostro con delle caratteristiche principali che sono quelle di aiutarci durante il sonno con il calore usando dei filati tecnici usando dei filati particolari come dicevo per abbassare la temperatura corporea con questi tessuti noi produciamo sia copri materassi per cui chi ha già il materasso che ritiene caldo che ritiene poco confortevole può usare il nostro materasso per rinfrescare un po' questo materasso anche copri guanciale oppure noi produciamo direttamente materassi con la cover con il tessuto questo tipo di tessuto qua per cui già corredato di questo tipo di tessuto termico questi materiali che noi abbiamo prodotto questi tessuti sono tutti i tessuti testati con l'eco test che è un test che viene fatto per la nocività dell'ambiente e delle persone addirittura anche per i neonati e questo tessuto è formato da filati molto particolari che disperdono la temperatura corporea oltre ad essere analergici antibatterici e lavabili per cui facilmente igienizzabile basta mettere la lavatrice con un normale lavaggio disinfettante che ci sono sempre igienizzati per cui è anche pratico come manutenzione e concludiamo il nostro notiziario con lo sport perché è partita sono partiti gli allenamenti dell'Ital Service a poco meno di un mese dal via del campionato di Serie A un campionato che si annuncia molto diverso dai precedenti per le regole cambiate stravolte nei tesseramenti dei giocatori stranieri però l'Ital Service è pronta a calarsi in questa nuova tipologia di campionato come ci garantisce ai nostri microfoni mister Fulvio Colini noi abbiamo fatto una scelta diversa ovviamente quest'anno un po' colpiti dalla decisione federale di abbattere drasticamente il numero degli oriundi possibili avevamo in essere molti contratti che abbiamo dovuto sciogliere per gioco forza e la società aveva due strade di fronte o investire ancora tanto senza avere una certezza su quello che sarà poi il campionato che sta per iniziare oppure provare una seconda strada di rifondare un po' la squadra anche perché andare all'estero e rastrellare giocatori importanti poi 6-7 non sai mai se sono con la testa giusta per cominciare un conto è uno un conto 6-7 allora abbiamo preferito puntare su gente che conoscevamo per lo più e fare un campionato di attesa diciamo ridimensionare da un lato può comunque essere qualcosa di difficilmente digeribile però dallo stesso tempo dà uno stimolo in più provare a ripetersi a continuare a essere competitivi anche in una strada che magari non si desiderava sì sì ma ripeto non è che noi abbattiamo le nostre volontà di competitività semplicemente abbiamo inteso non buttare i soldi io lo dico proprio francamente perché oltretutto anche la non partecipazione alla Champions nel momento in cui è avvenuta la decisione da me condivisa erano quattro le possibilità di oriundi poi dopo non sono state portate a cinque sulla base di proteste quindi non c'era possibilità di fare una competizione sinceramente accettabile allora noi ci buttiamo con una squadra che vogliamo che sia combattiva competitiva e che difenda in maniera adeguata i titoli che sono ormai scolpiti sia nella baghega che sulla maglia e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata a grande richiesta tornano le puntate di questa seconda stagione di Masterfish il pesce va in onda questo nostro format curato dai nostri Paolo Pagnini e Roberta Esperide che vi tiene compagnia tutti i lunedì compreso oggi a partire dalle 21.20 e domani invece vi do appuntamento per le 7.20 in diretta come sempre con la rassegna stampa della provincia di Peso Rorbino con i quotidiani che sfoglieremo nella nostra consueta edizione di Buongiorno Rossini appuntamento dunque domattina alle 7.20 e come di consueto vi ricordo anche l'app di Rossini TV uno strumento fondamentale da scaricare sul vostro smartphone per avere a portata di click la possibilità di consultare la nostra programmazione le nostre notizie o anche per inviare segnalazioni alla redazione ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio vi ringrazio